Manager Fagnano, obiettivo dell'incontro è coinvolgere i sindaci del territorio terramano per divulgare questo importante progetto della ASL di Teramo, dello screening. Sì, ancora più operativamente questa attività di screening è anche fortemente condizionata, abbiamo registrato, dal fatto che le anagrafiche regionali sono molto vecchie. Quindi è accaduto in passato che abbiamo convocato per gli screening persone che sono decedute, accade ancora oggi che le lettere ci tornano indietro, le lettere di convocazione, perché gli indirizzi non sono più corrispondenti alla realtà. E allora dobbiamo, rispetto a questa problematica importante di prevenzione, lo screening salva le vite, cercare di coinvolgere tutto il territorio. Come? Almeno cercare di ottenere le anagrafiche corrette, quelle che hanno oggi tutti i comuni della provincia di Teramo e che sono anche facili da utilizzare. I dati del 2014 non erano buoni, veramente. Parliamo del 7% contro gli altri che stavano superiori al 20, al 25 e via dicendo. I dati del 2015, il primo semestre, ci vede già cresciuti, soprattutto per la mammella, forse per i tumori del collo dell'utero. Non avevamo percentuali tanto basse perché si è partiti da tanti anni, quindi la donna è stata sensibilizzata in questo. Certo è cambiata la patologia, nel senso che non cerchiamo più il carcinoma della cervice uterina, ma cerchiamo l'infezione da HPV, da papilloma virus. E quindi trovandola già in età adolescenziale, abbiamo un dovere morale maggiore nei confronti delle ragazze che cominciano ad essere esposte a questa possibilità. Quindi per la cervice forse siamo un pochino avanti, ma per la mammella e il collo stiamo crescendo adesso.